Napoli, Kim, sono avido di vittorie la città vuole lo scudetto. Ansa, Napoli, 8 marzo ho una grande voglia di vincere. Il Napoli non vince da tanto tempo. Ma giochiamo bene. Ora sono avido di vittorie, puntiamo allo scudetto. Lo ha detto il centrale del Napoli Kim In-J. Che ha parlato a Upsbit, che è tra gli sponsor del club azzurro. Il difensore sudcoreano ha parlato del suo velocissimo ambientamento nel calcio italiano, anche in poche settimane ha fatto dimenticare ai tifosi del Napoli l'addio di Kouibali. Ma il difensore ha cominciato parlando di se stesso e del ballo di Gagnon Stahil fatto al suo arrivo nel ritiro del Napoli, onestamente ha detto con ironia tutti conoscono il Gagnon Stahil. Quindi non ho dovuto allenarmi per ballarlo. L'ho fatto una volta sola, mi imbarazza un po' e infatti non riesco a riguardare il video. Non lo farò più. Sul pieno inserimento rapido nel gioco, Kim In-J ha spiegato, la cosa più importante ha spiegato e capire che tipo di calcio vuole il tuo allenatore impegnarsi per riuscire a farlo in fretta. Io cerco di fare così. Poi è stato facile integrarsi nella squadra e andare d'accordo con i compagni. Penso di essermi adattato velocemente, credo sia stato questo il mio segreto. Kim ha già gli occhi addosso di top club europei ma per ora spiega come vuole rimanere sempre nella mente dei napoletani. Vorrei fare in modo che il nome di Kim In-J possa essere ricordato dice. Sto cercando di farlo e spero di riuscirci. Fare gol nel Napoli? In realtà preferisco non subire reti piuttosto che segnare. Io sono un difensore, quindi so che se segni aiuti la squadra ma sono orgoglioso il mio obiettivo è sempre finire la partita senza subire gol, ansa. Virgola.